FIR, aperti per ferie. Sì, perché per noi servizio e qualità non sono solo semplici parole da inserire nelle proprie brochure o nella propria comunicazione. Per noi servizio e qualità significa anche offrire il servizio di essere aperti il mese di agosto. Quindi, siamo aperti tutto il mese, solamente i giorni festivi saremo chiusi, quindi come sempre le domeniche e il 15 e 16 agosto, come ogni anno. Quindi vi invito, se siete ad agosto liberi e avete del tempo per voler pensare a arredare la vostra casa, quindi a rinnovare la cucina, il bagno o soluzioni per riscaldare, perché anche se adesso fa caldo arriverà sicuramente un momento dove il freddo ci raggiungerà, quindi trovare soluzioni di risparmio energetico, noi siamo a disposizione, i nostri consulenti alle vendite sono qui e sono felicissimi di accogliervi presso il nostro punto vendita che rimane aperto tutto agosto. FIER, servizio e qualità.